Cioè, ma cosa è Cristoforo Colombo che parte alla scopertà delle Americhe? No, perché almeno lui una destinazione l'aveva, invece questo fedele, vaga, in tutto il mondo, alla ricerca di questo colpo di fulmine, di questo amore perduto, ma ragazzi, cioè, ma neanche Nicola Sparks ce le profila queste storie, ma di cosa stiamo parlando? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in cui, come potete aver capito dal titolo, andremo a fare il punto della situazione di quelle che sono state le mie letture di gennaio. Su Instagram ho pubblicato la TBR liste, ossia la lista dei libri che avevo intenzione di leggere a gennaio. Vi invito a seguirmi su Instagram così da rimanere sempre aggiornati anche sui prossimi video e quindi adesso andremo a vedere se quei libri che ho indicato nella TBR liste mi sono piaciuti oppure no. Vi anticipo già che non sono riuscito a leggere tutti i libri che avevo messo nella TBR liste, perché forse mi sono un pochettino sopravvalutato anche in vista della sessione d'esame di febbraio e quindi sono riuscito a leggerne 5 anziché 8. Poi mi trovate con questo look diverso, sì ragazzi, ho deciso di darci un taglio letteralmente perché erano un po' rovinati dai precedenti trattamenti, i capelli, e quindi ho deciso di farli ricrescere sani e naturali. Comunque, bando alle ciance, i libri che ho letto questo gennaio sono qua, eccoli qua. Primo libro di cui andremo a parlare è questo, Acciaio di Silvia Vallone. Libro finalista del Premio Strega del 2010, non avevo ancora letto niente di questa scrittrice e quindi per iniziare ho deciso di scegliere questo libro che è quello più premiato e quello suo più famoso. Devo dire che già guardando la copertina, leggendo la trama, mi sono subito venute in mente le storie della mia amata Valentina Durbano. Infatti leggendo la trama ho intravisto anche qui questo sfondo un po' degradato, questi personaggi rudi, e infatti devo dire che leggendo poi il libro successivamente è stato proprio così, infatti ho trovato molti elementi in comune tra queste storie e quelle di Valentina Durbano. Però io, come vi ho detto, sono molto contento perché amo Valentina Durbano, se volete saperne di più vi lascio la scheda qua sopra in cui recensisco tutti i suoi libri e quindi se ho apprezzato questo libro sicuramente è anche grazie al fatto che vi sono degli elementi in comune. Però, prima di tutto, quindi vediamo velocemente di che cosa parla questo libro. Questo libro, quindi, racconta la storia di un'amicizia, quella tra Anna e Francesca, due ragazze di 14 anni che vivono nella periferia di Piombino. Un'amicizia molto salda e forte che però verrà messa in crisi dalla violenza del padre di Francesca verso la sua stessa figlia, dall'amore che Francesca scoprirà di provare per la sua amica Anna. Una storia che ha come sfondo una vita non proprio agiatta, fatta di debiti e di bollette da pagare. Abbiamo in questo racconto questa fabbrica, la Lucchini, che sarà presente durante tutta la storia perché è proprio quella... è la fabbrica dove alla fine tutti vanno a lavorare. Un libro che ho amato. Come vi ho detto mi è piaciuto molto. Questa amicizia forte, salda, nonostante gli screzzi, i problemi che però rimane forte. Non si perderanno mai le due amiche, avranno come un filo che le collega l'una all'altra nonostante la lontananza. È un libro che io ho letto in pochi giorni, un libro che si legge tutto d'un fiato. Le descrizioni sono molto realistiche, riesci a vedere Anna, Francesca, questa... la loro bellezza. Infatti nel libro vengono spesso additate come attrici, potrebbero fare le attrici, le modelle, proprio perché hanno questa bellezza che si scontra con la bruttezza del posto in cui vivono. Comunque, nonostante appunto sia un romanzo che ho amato, vi sono però alcuni punti che mi hanno un po' fatto storcere il naso. Prima di tutto la figura maschile trovo che venga spesso demonizzata. Infatti all'interno del romanzo non abbiamo una figura maschile positiva. Infatti la figura maschile è sempre descritta in modo negativo. Appare come un viscido, penso appunto agli uomini che sbavano per Francesca. Oppure come un codardo, pensiamo al padre di Anna che scappa via, lascia la famiglia in mezzo ai debiti, alle bollette, nei problemi, nelle difficoltà. Oppure come uno sfruttatore, una figura autoritaria, penso alla figura del titolare della Lucchini. Quindi sicuramente avrei preferito vedere anche un personaggio maschile positivo all'interno della storia. Altro punto che mi ha fatto un po' storcere il naso è il finale. Infatti l'ho trovato un po' frettoloso, sembrava che l'autrice avesse fretta di chiudere. Per un romanzo del genere sicuramente avrei apprezzato un finale più articolato. Ma nonostante questi piccoli dettagli, comunque ve l'ho detto, mi è piaciuto molto. Se ancora non avete letto niente di questa autrice, vi consiglio anche di partire da questo. Io ho intenzione anche di leggere gli altri, gli altri suoi libri, perché come vi ho detto, sembrano storie molto belle, molto interessanti e quindi secondo me vale la pena darci un'occhiata. Riguardo a questo libro vi aggiungo anche il fatto che dopo qualche giorno aver finito di leggerlo, ho scoperto l'esistenza di un film. Quindi a me comunque sapete, piace. Comunque dopo aver letto un libro, magari se c'è il film andare a guardarmelo, perché voglio vedere comunque se il film che mi sono fatto io nella mente, nel mentre che leggevo il romanzo, si avvicina al film, alla pellicola che è stato prodotto. Quindi appunto ho deciso subito, prontamente, di andare a guardarlo. Ma mi dispiace, ma non mi è piaciuto. Ve lo sconsiglio assolutamente. Assolutamente la storia è stata banalizzata. Sembrano, cioè, Anna e Francesca, che comunque nonostante sono delle ragazzine, nel romanzo però appaiono mature, grandi, forti, mentre nel film appaiono proprio come delle ragazzine, come delle semplici adolescenti. Questa per dirvene una, ma ci sono tante cose che il film, che non andavano nel film, infatti io l'ho tolto dopo mezz'ora, perché diciamo che mi stava anche un pochettino rovinando l'idea che mi ero fatto del romanzo. Quindi se comunque volete leggere il libro, se avete letto il libro, vi sconsiglio di andare a guardarvi il film, perché a mio parere non ne vale assolutamente la pena. Secondo libro che ho letto durante questo gennaio è stato Il potere di adesso, in pratica, di Eckhart Tolle, che non vi faccio vedere perché ho letto in digitale. Un libro che dovrebbe contenere degli aspetti pratici del fratello maggiore, Il potere di adesso, che io ho trovato molto teorico, molto ripetitivo. Il messaggio è assolutamente sacrosanto, dobbiamo vivere il momento presente, perché il presente è ciò che abbiamo, il passato e il futuro sono un'illusione. Il messaggio, come vi ho detto, è assolutamente apprezzabile. Però nel libro trovo che venga espresso in maniera troppo ripetitiva, troppo prolissa. Io ho deciso di orientarmi su questo perché appunto si pone come un libro più pratico, più concreto, ma in realtà non l'ho trovato così, nel senso che trovo che sia un semplice riassunto del fratello maggiore. Di aspetti pratici ne ha poco e niente, è un libro anche questo teorico, ripetitivo. Quindi diciamo che mi aspettavo, come dice il titolo, qualcosa di pratico, invece ho trovato un semplice riassunto del potere di adesso. Quindi se avete letto il potere di adesso e come me l'avete trovato un po' troppo prolisso, un po' troppo ripetitivo, magari avete visto questo e volete qualcosa di più pratico e concreto, ve lo sconsiglio, perché di pratico e concreto c'è solo il titolo, ma poi i contenuti sono uguali a quelli del potere di adesso, solamente che sono più riassunti, però sono lo stesso molto teorici. Vi aggiorno che comunque adesso sto leggendo Un Mondo Nuovo e sono quasi a metà, devo dire che sto coinvolgendo di più, lo trovo meno ripetitivo e più innovativo. Comunque vi aggiornerò su Instagram, quindi vi invito a seguirmi così da vedere quando lo finisco se mi sarà piaciuto oppure no. Passiamo adesso al terzo libro che ho letto a gennaio ed è lui, Il Novecento di Alessandro Barricco. Un libro che ho scoperto dopo aver visto il film La leggenda del pianista sull'oceano, un film che ho amato profondamente e quindi ho scoperto che era tratto proprio da questo monologo teatrale di Barricco e quindi ho deciso di leggerlo anche perché sono poche pagine, quindi vale la pena. E me l'ho apprezzato comunque appunto la storia di questo pianista che nasce in un transatlantico e ci rimarrà tutta la vita, addirittura fino alla distruzione della stessa nave. Quindi assolutamente consigliato, vi consiglio anche di guardare il film che nonostante la lunghezza, infatti credo che duri più di tre ore, però ne vale assolutamente la pena perché veramente l'ho trovato un capolavoro, quindi assolutamente consigliato sia il libro che il film. Il quarto libro ho letto lo scorso gennaio è stato lui, 1984 di Orwell. Un libro che sicuramente tutti voi conoscete già perché gli unici a non averlo letto siamo stati io e forse il mio gatto. Sicuramente voi lo conoscete già perché è un grande classico, insomma, un libro sicuramente molto famoso. Non sto qui neanche infatti a dirvi la trama perché sicuramente la sapete già. Comunque si dire che è un libro di genere distopico. Distopico che cosa significa? Distopico è il contrario dell'utopia che indica tutte quante le cose, che indica quelle cose perfette, meravigliose, mentre il distopico da concentrare su di sé tutte le cose più macabre e spaventose. Infatti questo libro racconta proprio di una terra divisa in tre continenti dominata dal grande fratello che tutto vede e tutto sa. Non avevo letto nulla di questo genere, anche se mi viene il dubbio se Hunger Games, se lo conoscete, possa essere considerato distopico, però secondo me è più fantasy, non lo so. Fatemi sapere nei commenti se Hunger Games può essere considerato distopico, perché mi è venuto il dubbio, devo dire. Comunque, come vi ho detto, in teoria non avrei dovuto, in teoria non avevo ancora letto niente di questo genere, devo dire che non l'ho apprezzato. Non l'ho apprezzato ma proprio il genere in sé, mi ha lasciato un'angoscia dentro, mi ha intristito, quindi non dico niente sul libro in sé, anche perché non avendo letto altro non posso fare confronti con altri libri di questo genere, quindi non saprei neanche che cosa dirvi, però il genere in sé non mi è piaciuto perché mi ha lasciato dentro brutti sentimenti, mi ha un po' angosciato e quindi non penso che leggerei altro di questo genere. Come vi ho detto, niente da dire sulla struttura, sul romanzo, comunque l'ho letto abbastanza tranquillamente, l'ho letto in pochi giorni, comunque era abbastanza coinvolgente, a parte qualche parte un pochettino più pesante, però sicuramente un libro dal grande significato, con tanti significati, molto profondo, però come vi ho detto non mi ha lasciato dei bei sentimenti e quindi eviterei sinceramente. Io ovviamente questo qui è il mio parere personale, il mio gusto personale, perché poi magari voi amate questo genere di libri e quindi io però a mio parere amo altri generi e quindi di questo ne avrei fatto volentieri a meno. Comunque andiamo avanti. L'ultimo libro letto nello scorso gennaio è stato lui, Le tartarughe tornano sempre di Napolillo. Ti avviso già che di questo ho più da dire, perché è appunto un libro che mi è stato consigliato come capolavoro, come molto emozionante, una storia d'amore, come quelle che piacciono a me, molto toccante, emozionante, estruggente, ma che secondo me non ha assolutamente rispecchiato queste caratteristiche. Comunque vi dico brevemente di che cosa parla. Il suo libro racconta la storia di Salvatore e Giulia, sono due ragazzi che si sono conosciuti su un'isola che anche se non viene fatta espressa menzione ricorda assolutamente l'isola di Lampedusa. Questi due ragazzi appunto Salvatore, che appartiene proprio a quest'isola, è nato fra le barche, fra i pescatori, mentre Giulia è di Milano. Però durante le vacanze estive si reca sull'isola insieme alla famiglia perché i genitori hanno comprato una casa sull'isola. Infatti si innamorano proprio durante l'estate. Durante l'estate, l'estate la passano insieme mentre d'inverno si scambiano delle lettere dalla busta rosa. Dalla busta rosa perché Giulia crede che i postini stiano più attenti quando maneggiano una lettera rosa, una lettera dalla busta rosa. Tutto cambierà il giorno in cui facendosi il bagno in una delle tante spiagge dell'isola troveranno sulla spiaggia boccheggiando un bambino. Un bambino ancorato sulla spiaggia e poi guardandosi intorno troveranno il mare pieno di esseri umani. Chi sono queste persone? Loro sono gli immigrati, coloro che provengono dall'Africa per scappare dalla guerra e dalla povertà e per andare incontro a un futuro migliore. Le cose cambieranno da quel momento perché l'isola cambierà. Arriveranno soccorritori, giornalisti da tutta l'Italia proprio per testimoniare il fenomeno e per aiutare in qualche modo queste persone. Poco dopo Giulia tornerà a Milano perché i genitori ritengono che sia l'ora di tornare a casa. Poco dopo venderanno anche la casa sull'isola perché secondo loro non sarà più vivibile. Sarà invasa appunto da giornalisti, soccorritori, immigrati e quindi non sarà più il posto accogliente che era prima. Salvatore ovviamente sarà devastato. Per lui sarà come una doccia fredda. Questo anche per via dell'opposizione che il padre di Giulia l'opposizione che il padre di Giulia manifesterà sempre nei confronti di Salvatore. perché non li andrà tanto a genio. Giulia stanca, svilitta, non ce la fa più e quindi decide di chiudere la storia con Salvatore perché la distanza è un problema troppo grande, insormontabile. Quindi i sogni e i progetti svaniranno per far spazio alla realtà. Infatti anche volendo Salvatore non ha la possibilità economica di trasferirsi dalla sua Giulia a Milano. La storia come finirà? Si ricongiungeranno? Oppure la storia sarà veramente definitivamente chiusa? Questo ovviamente lo scoprirete leggendo il romanzo. Adesso quindi vediamo come vi ho detto prima i motivi per i quali vi ho detto che non mi ha convinto. I motivi che sono un po'. Allora, prima di tutto questa storia non mi ha convinto perché l'ho trovata molto banale, prevedibile, adolescenziale. Mi era stata decantata come vi ho detto prima come un piccolo capolavoro, una storia emozionante, estruggente ma devo dire che io non l'ho trovata così. Come vi ho detto l'ho trovata molto banale, molto adolescenziale, una storiella che neanche Nicola Sparks ci propone. Quindi prima di tutto non mi ha convinto per questo. Poi non ho apprezzato neanche i personaggi. Salvatore, un ragazzo rude, assettico, non riesce a esprimere appieno ciò che prova per Giulia. Giulia che dice di essere così tanto innamorata però poi subisce l'autorità del padre ed è influenzata anche da questo nella scelta di lasciare Salvatore. Terzo punto a favore di questo libro è la questione dei migranti. Secondo me in questo contesto, in questa storia non ci faceva assolutamente niente perché non aggiunge niente alla storia. Secondo me è stato solo un modo dell'autore per prendere una posizione, per denunciare questo fenomeno ovviamente dilagante negli ultimi tempi però poteva farlo in altro modo secondo me. Metterlo in questa storia d'amore, in questo libro non l'ho trovata una scelta saggia sinceramente. poteva anche scrivere un altro libro un'altra storia magari narrando la storia d'amore tra due migranti che arrivano in Italia che ne so per fare un esempio la prima cosa che mi viene in mente però inserito in questo contesto non mi ha convinto mi dispiace ma io ne avrei volentieri fatto a meno perché poi a un certo punto la storia si perde molto nel raccontare i disagi i problemi che affronterà l'isola proprio per questo fatto. e sinceramente mi sarei concentrato di più sulla storia d'amore piuttosto che divagare inutilmente quindi questo è un altro punto per il quale questo libro non mi ha convinto. Ancora continuiamo vogliamo parlare del personaggio di Fedele un ragazzo che è proprio impegnato nell'aiuto come soccorritore nell'isola ma che poi conoscerà una ragazza immigrata che arriva proprio nell'isola di cui si innamora perduttamente e questa ragazza poi sparisce viene portata non si sa dove e quindi lui decide di intraprendere questo lungo viaggio alla ricerca di questo amore perduto cioè ma cosa è Cristoforo Colombo che parte alla scoperta delle Americhe no perché almeno lui una destinazione la aveva invece questo fedele vaga in tutto il mondo alla ricerca di questo colpo di fulmine di questo amore perduto ma ragazzi cioè ma neanche Nicola Sparks ce le profila queste storie ma di cosa stiamo parlando questa ragazza che può essere dappertutto a me è sembrato solo un modo carino per togliersi dalle scatole del personaggio infatti poi nel finale verrà rintrodotto ovviamente poi Fedele dirà che non ha trovato questa il suo amore ma chissà perché perché il mondo è grande cioè capite è un po' come trovare uno spillo in un pagliaio come si dice quindi era abbastanza prevedibile anche questo però questo va bene ovviamente era solo per sto scherzando era solo per fare un po' di umorismo però anche questo ragazzi giova a rendere la storia piacevole ed emozionante ma anzi la rende un po' irreale a mio parere poi anche l'isola sapete certe volte appunto leggiamo di romanzi dove ci sono isole ambientazioni particolari città vi viene voglia quasi di andare a vederle esplorarle cosa che volete fare andare a vederle con i vostri occhi a sentire quegli odori che vengono descritti nel libro a vedere quelle ambientazioni quelle spiagge in questo libro anche questo non l'ho trovato nel senso che viene si parla di quest'isola però non gli viene resa giustizia non vi viene voglia di andare a vedere con i vostri occhi quest'isola e questi paesaggi quindi secondo me anche il modo in cui viene esposta nel libro non li rende giustizia quindi ragazzi in definitiva questi erano i motivi per i quali questo libro non mi ha tirato quindi ovviamente ve lo sconsiglio perché come vi ho detto si vuole porre come una storia d'amore emozionante struggente un amore che sfida ogni distanza ma secondo me non ci è riuscito se state cercando una storia d'amore vi consiglio mille volte le nostre amate storielle di Nicola Sparks oppure le storie della mia amata Valentina Durbano quindi ragazzi anche per questo video è tutto vi invito sempre a iscrivervi al canale ringrazio i nuovi iscritti ho visto che ce ne sono di nuovi lasciate un mi piace un commento per me è molto importante come supporto perché mi fa capire che voi apprezzate questi contenuti che altrimenti scoraggiarsi è facile se si vede che quello che si sta facendo che comunque richiede abbastanza lavoro perché credetemi che girare un video editarlo è tutto non è una cosa da 5 minuti quindi apprezzerei sicuramente un vostro riscontro positivo così da farmi continuare più carico di prima a fare altri video ovviamente sempre se vi va io ve lo dico perché mi farebbe piacere ma poi siete liberi di fare ciò che meglio credete quindi ragazzi io vi auguro buone letture fatemi sempre sapere se voi condividete questi miei feedback che do a questi libri oppure se al contrario avete un'idea diversa mi fa sempre piacere sapere conoscere le vostre opinioni quindi ragazzi vi auguro buone letture e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao